cari amici milano 1 ben trovati nuovo appuntamento con la nostra amica cristina cattaneo psicologa ma soprattutto anche vice direttore della rivista online alberone magazine rivista digitale che trovate gratuitamente sul sito o comunque schiacciando google scrivendo alberoni magazine trovate e potete fare le vostre domande potete scrivere quello che credete sia utile e cristina e gli esperti del magazine danno delle risposte a titolo gratuito giusto detto detto giusto cristina buonasera paolo e buonasera a tutti va bene senti io sono un po contento perché alla fine della fiera vedo che i nostri appuntamenti aumentano sempre di più i numeri speriamo che anche questa sia in crescita comunque noi ce la mettiamo a tutto giusto cristina soprattutto ce la mettiamo tutta a parlare dei problemi veri delle persone cercare di fare un po un approfondimento un po una riflessione bene sono contento allora questi in questa puntata al posto di un libro noi normalmente partiamo con la puntata con un titolo di un libro una trama di un libro oggi invece giustamente volevo leggere questa lettera che è arrivata appunto dal magazine salve mi chiamo mario ho 22 anni fino a gennaio di quest'anno non avevo mai affrontato conosciuto il sentimento dell'amore leggendo un libro scoperto la forza e la bellezza di questo sentimento allora mi sono messo alla ricerca di libri che ne parlassero in modo più specifico e ho fatto la conoscenza del professor alberoni le sue opere mi hanno aiutato a capire la condizione in cui mi trovavo mi hanno rivoltato come un calzino da lì ho iniziato una piccola ricerca che mi ha fatto questo sortilegio chi è la persona di cui mi sono innamorato considerando che ho pochissimi amici due conoscono pochissime ragazze e come ho già detto fin dall'inizio dell'anno ripudavo ripudiavo questo sentimento ed ora non posso più farne a meno dopo varie ricerche ho capito ho capito che la donna di cui mi ero innamorato la seguivo su instagram una giornalista di 14 anni più grande di me ovviamente essendo un sognatore capricorno per una settimana mi sono illuso poi però sono tornato al mio solito pragmatismo ma ogni volta che la vedo non riesco a non meravigliarmi ho scoperto tante cose su di lei ma lei neanche sa che esisto sono solo uno dei suoi tanti followers ingoiato il rospo e resomi conto della sua della mia bruttezza fisica mi sono reso conto che è un amore impossibile differenza d'età e non ci conosciamo neanche allora lascio perdere ma ogni volta che la vedo in tv o sui social rimango a bocca aperta sono addirittura geloso in certi momenti la odio vorrei che lei fosse felice perché ho capito che è una persona sola come lo sono io d'altronde d'altronde la mia domanda è come possibile che io mi sia innamorato di una persona che conosco conosco un parolone la seguo solo sui social a malapena ma soprattutto com'è possibile che io arrivi ad essere geloso geloso e a odiarla mi scusi per il disturbo ma ho bisogno di una risposta grazie diciamo che nome mario questa lettera paolo una lettera che non è recente però secondo me è una lettera molto bella è una lettera paradigmatica di una condizione che io credo quasi tutti abbiamo vissuto la grande timidezza che si ha da giovani una timidezza che puoi avere a 15 anni normalmente ce l'hai a 15 16 anni e a volte perdura semplicemente perché non hai non hai avuto la possibilità di fare delle esperienze di metterti alla prova e quindi questa timidezza ti fa cosa ti fa guardare le persone che sono in vista che sono famose vuoi farmi una domanda ti vedo no no volevo ti lasciamo parlare ma c'è sicuramente sono tante domande da farti perché anche questa differenza di età che lui dice nella lettera però poi ci sono anche tante ragazze perché lui è un ragazzo che dice mi ha colpito una donna di 14 anni di più però oggi anche le ragazze magari vivono storie d'amore con ragazzi molto più grandi cioè non uno due anni magari 15 10 c'è la differenza d'età che ruolo gioca su queste cose ha un ruolo allora facciamo una cosa questo è un tema che è un tema un po' a sé giustamente e quindi allora va bene continuo allora è curioso che mario abbia scritto dopo aver letto alcuni libri del professor alberoni io ritorno volentieri su su questo tema dei libri del professor alberoni relazione al tema dell'amore perché un temo che soprattutto i giovani oggi non sappiano che noi abbiamo non solo il più grande sociologo vivente ma soprattutto l'unico sociologo che ha studiato a livello a cui ha studiato lui l'amore cioè che ha detto che ha dato una teoria dell'amore a cui deve ricorrere persino la psicologia che notoriamente si affida alle teorie degli psicologi qual è la e quindi colpisce che questo ragazzo che viveva così nella sua mondo un po chiuso vattato a un certo punto leggendo dei libri che gli parlano dell'amore e ne parlano in un certo modo con un linguaggio chiaro semplice e poi sotto c'è una teoria precisa quindi che ti aiuta ti accompagna a capire di cosa si tratta ha incominciato a interrogarsi e si è reso conto che era innamorato innamorato una parola è una parola se vogliamo eccessiva comunque ha un'infatuazione per una persona più grande di 14 anni ma soprattutto vedi una persona che non conosce e una giornalista televisiva quindi una persona che è famosa che lui vede da lontano e che si presta alla sua ammirazione la prima cosa che colpisce di questa lettera ed era la prima cosa che io rispondevo a lui era spiegargli il fenomeno perché prima di tutto dobbiamo capire cosa ci succede ora noi siamo tutti abituati a dare per scontato alle infatuazioni delle giovani ragazze per gli uomini importanti no per il calciatore per il cantante per lo sportivo noi le vediamo anche quando siamo abituati a vedere ma già al tempo dei beatles è frank sinatra se voi vedete i vecchi filmati sono queste giovanissime ragazze che che vogliono avvicinarsi al loro divo e che esprimono tutta la loro anche eccitazione erotica al loro desiderio di conoscerlo c'è un veramente una spinta che la ragazza non nasconde che soprattutto a 16 anni 17 15 c'è questa mentre nei maschi è una cosa nuova e direi paolo un po segno dei tempi il segno del fatto che c'è stato un cambiamento nella società per cui oggi un giovane di 22 anni può vivere un'esperienza che un 50 60 anni fa era tipica molto più tipica delle ragazze ed era difficilissimo che capitasse ai maschi prima di tutto perché non c'erano donne famose noi in primo piano più grandi quindi questo è un segno del cambiamento dei tempi notevolissimo e poi anche il fatto vedi il candore con cui questo ragazzo parla delle sue difficoltà della sua si interroga su cosa sta provando e questo è un altro segno dei tempi perché io vedo che oggi i giovani non solo le femmine ma anche i maschi quindi la novità che lo fanno i maschi parlano si confrontano sui problemi d'amore magari si si parlavano assolutamente non so se me lo confermo parlavano invece oggi mi sembra che i giovani maschi parlino più di sentimenti anche tra loro e parlano anche con le ragazze quindi c'è una maggiore apertura verso questo mondo sconosciuto diciamo che forse sono arrivati i ragazzi verso un po più la tendenza femminile di un tempo e invece le ragazze di adesso sono diventate un po più tra virgolette maschi come era un tempo i maschi cioè nel senso erano un po sono un po più forte le le femmine rispetto i maschi di un tempo dice di di adesso e loro invece i maschi metto dentro anch'io siamo andati verso un po un lato diciamo femminile come comportamento la sintesi della tua frase è che sono cambiati i rapporti di potere cioè una volta il potere ha saldamente in mano maschile e allora non è che le donne non avessero potere perché qua dobbiamo anche stare molto attenti quando parliamo ma avevano potere in quanto potere riflesso se erano vicino un uomo di potere mentre oggi sempre di più il potere che una donna dicevo conquista è un potere personale non è un potere che che lei acquisisce in quanto è la figlia la moglie la compagna la fidanzata insomma è vicino a un uomo potente e qui veniamo al problema di di mario perché problema di mario è il problema che insomma hanno tutti i giovani possibile che io mi sia innamorata di una persona che neanche conosco tra i vari libri che ha scritto alberoni c'è proprio un libro che si intitolava un libro di tanti anni fa il volo nuziale e questo libro che è stato fatto proprio su delle indagini cioè parlando allora con delle giovani ragazze ma si applica come vediamo oggi anche i ragazzi andava proprio a cercare di parlare le ragazze su quello che provavano su chi desideravano mettevano gli occhi sul compagno di scuola oppure desideravano il personaggio in vista ecco e spesso e volentieri queste prime tatuazioni riguardavano un personaggio famoso e il volo nuziale proprio è proprio l'immagine l'immagine in realtà ci viene da una società matriarcale quale quella delle api no che c'è il volo della regina i fuchi cercano di raggiungere la regina quello che la raggiunge potrà potrà fecondarla e gli altri no però appunto c'è questa questa idea che c'è un amore un amore che io desidero che però mi è precluso è raggiungibile certo ascolta però in questo momento i giovani fanno fatica a trovare ad amarsi cioè trovare l'amore ci sono delle delle problematiche ci sono qualcosa che è dovuto per i giovani appunto per trovare l'altra metà della coppia come io dico sempre l'amore è sempre una frutto di un un incontro fortuito di un lavoro di una tenacia cioè c'è sempre e poi anche una forse chissà un elemento del destino tutti noi per tutti noi l'amore è qualcosa che ci dobbiamo conquistare che ci auguriamo di trovare e se l'abbiamo trovato cercare di farlo rimanere vivo cercare di farlo farlo durare questo è un tema di tutti credo che ci sia oggi l'idea vedi i giovani hanno l'idea come sempre anch'io quando ero giovane pensavo che non era era tutto diverso rispetto a quello che aveva vissuto non so mia mamma mia nonna e sia l'idea che non ci sia alcune cose non vissano più per esempio che non ci sia più la timidezza infatti volevo chiedertela questa volta vedi questo ragazzo dice io in fondo non conosco nessuna ragazza cioè io guardo quella donna in tv sui social su instagram e mi piace trovo che sia anche perché lei si mostra fa vedere le sue capacità mentre lui è in ombra certo e questa però non ne conosco di ragazze non so come si avvicinano le ragazze non so farmi delle amiche questo problema non è passato anche se siamo in una società moderna in cui le ragazze non vengono più chiuse in casa e sai un tempo si cercava di tenere a bada noi ragazzi proprio in modo che non si incontrassero troppo insomma che poi potesse succedere qualcosa oggi nessuno sorveglia i ragazzi e noi tendiamo a pensare che questo porti automaticamente al fatto che non ci sia più un problema di superare cioè sai quando conosci qualcuno c'è un momento in cui tu ti devi correre certo superare la paura del rifiuto la paura di non essere interessante l'idea che non sei abbastanza bello abbastanza capace abbastanza simpatico ognuno ci mette la sua fragilità no in questa paura del rifiuto però questa è tuttora presente anche nei ragazzi di oggi e tu hai detto timidezza e io volevo chiederti ma timidezza vuol dire anche insicurezza e vergogna cioè sono due cose che si possono avvicinare a questione della timidezza ci sono guarda sì si avvicinano nella timidezza c'è molto l'aspetto di non essersi mai messo alla prova e infatti io nella risposta a questo ragazzo dico proprio da alcuni consigli per uscire dal suo dal suo nucleo di non focalizzarsi tanto su questa attrazione per questa giornalista chiedersi perché prova delle emozioni dei sentimenti ma uscire di lasciarla lì insomma perché non è uscire e cercare di inserirsi in gruppi di amici di fare conoscenze faccio presente che questa lettera è precedente il covid quindi può uscire no perché altrimenti insomma quella covid ha naturalmente messo in campo tutta una serie di problemi nuovi che che non c'erano e non aspettarsi però vedi questo è il punto che spesso spesso frena le persone io non mi faccio avanti perché ho paura di essere rifiutato c'è un misto di timidezza proprio di approccio non l'ho mai fatto c'è una insicurezza non sono sicuro di qualità del mio valore e quindi io posso pensare di essere un bel ragazzo però viceversa non piaccio oppure penso di essere intelligente invece no mi considerano uno stupido penso essere spiritoso non faccio ridere nessuno no quindi sono insicuro che cosa porto io a una persona io vorrei portare arrivare con dei doni e e quindi quello di provare di sperimentarsi senza però aspettarsi un risultato questo è la cosa molto importante perché se tu vuoi la prima volta che fai ma questo vale in qualunque campo la prima volta che fai qualcosa la prima volta che tu fai una ciambella che ti venga con il buco e insomma rimane un pochino paralizzato invece se tu giochi con l'acqua la farina eccetera proprio a fare tante tante forme alla fine pian piano ti accorgerai che riesci a fare anche la ciambella col buco e poi devi anche accettare di sbagliare accettare che le prime volte nessuno rida le sue battute ma tu vai avanti nessuno oppure fai un ragionamento e magari in quel momento non viene ascoltato però se tu pensi di poter dare un contributo con così il tuo ragionamento probabilmente quel gruppo non è adeguato lo farai da un'altra parte però mettiti alla prova senza aspettarti subito un risultato e questa è una lezione che dobbiamo ridire soprattutto ai ragazzi dobbiamo ricordarcela anche noi però credo che i ragazzi oggi abbiano dimenticato questa idea che i ragazzi adesso parlo dei maschi i maschi qualche decennio fa avevano ben presente questa legge tu cerchi di conoscere tante ragazze tra tante ragazze cercherai di conoscere con una andrà bene e non è vero Paolo adesso non posso continuare e quanto più ecco oggi c'è meno questa idea capisci l'idea di provare senza aspettarsi subito una risposta positiva che cosa succede in sé è un piccolo problema ma diventa un grande problema se io continuo a non mettermi alla prova allora la timidezza giovanile diventa mio la mia proprio la chiamano corazza caratteriale no allora io inizio a dire io sono timido io non sono capace ma in realtà io non sviluppo qualità sociali semplicemente perché non mi ci provo mi viene quasi da pensare timidezza o se non la diciamo non la curi diventa poi magari sfocia in ansia beh sì c'è tutta una correlazione di poi sintomi sintomi proprio li chiamo sintomi ma possiamo dire tranquillamente reazioni emotive se io non ho mai fatto una cosa la prima cosa che la prima volta e soprattutto se per me è importante avrò paura la paura crea delle modificazioni all'interno del mio corpo e quindi se io vado con paura è chiaro che andrò un pochino rigidamente non potrò contare sul su tutte le mie capacità perché sto in difesa no alcuni hanno subito poi la rabbia hanno anche una reazione di rabbia ma come non mi capiscono no quindi oppure subito il dolore del rifiuto sono sono sai noi siamo esseri emotivi e sono lieta che le neuroscienze questa è una grande diatriba che c'è stata nella psicologia durante il novecento perché da un lato c'era la psicoanalisi che diceva che tutto in tutto le cose più importanti avvengono nell'inconscio e quindi noi possiamo solo cercare di esumerle ma ma di fatto noi ci innamoriamo ma non sappiamo perché è l'inconscio che ci spinge dall'altra parte però c'è stato un grande sviluppo del cognitivismo che è proprio una corrente psicologica che invece considera l'uomo un po' simile a un computer come un elaboratore di informazioni quindi tu più razionalizzi più capisci il problema e lo puoi e lo puoi risolvere ma tra queste due così tra questi due continenti in mezzo c'è fatto sempre che noi siamo esseri emotivi cioè le nostre emozioni hanno veramente un impatto fortissimo alla lunga ce l'hanno anche sulle nostre scelte più importanti perché se io ho paura poi ho paura anche la paura sempre nel caso di questo ragazzo che poi io ho avuto ancora uno scambio con lui quindi lui ha scritto dopo un po' di tempo e ha raccontato che lui è uscito si è scritto a un circo l'ha frequentato ha conosciuto delle ragazze si è dimenticato la giornalista invece si è interessato a una ragazza e questa ragazza poi alla fine quando lui ha cercato ha preso il coraggio e si è dichiarata ha detto guarda sono già fidanzata però lui devo dire e questo mi è piaciuto molto ha detto ma io ho fatto un passo avanti a me è piaciuta molto la maturità di questo ragazzo che ha detto quando ho usato farlo lei va bene purtroppo in questo caso non mi è andato bene però adesso so come si fa adesso so che devo non prendermela devo conoscere intanto io mi sono fatto un'amica e comunque sono uscita da quella situazione in cui guardo qualcuno che è lontano che è in alto che è in luce con cui non potrò mai avere una relazione no posso amarlo il mio bisogno d'amore si riversa su un oggetto che non può essere amato cioè lo posso amare ma non può esserci uno scambio amoroso non potrò mai avere qualche volta succede per lo più per lo più gli oggetti d'amore lontani persone di successo sono inavvicinabili anche perché piacciono molti poi quando li conosci scopri che sono persone come le altre certo senti rimanendo sempre sulle tematiche dei giovani oggi quanto è facile far sesso per un giovane ma è molto facile perché sono cadute le barriere così di sia quelle religiose sia quelle educative quelle morali soprattutto sono cadute nelle ragazze un grosso cambiamento epocale è stata la diffusione dei contraccettivi perché uno dei problemi più grandi sempre nel passato come oggi per una ragazza per una donna è il fatto che da un rapporto sessuale tu puoi poi avere essere rimanere incinta quindi avere una gravidanza che in questo caso non è una gravidanza desiderata e quindi puoi pensare come un tempo per una donna innamorarsi fosse avere una relazione fisica con un ragazzo un uomo fosse anche pericolosissimo desideratissimo ma anche molto molto rischioso oggi non c'è più questo problema per cui fare sesso come si dice l'espressione noi stiamo così siamo un po' colonizzati a mio avviso dal continente americano anche nel linguaggio in Italia non si è mai detto fare sesso stiamo imparando questa espressione che per me è brutta perché in realtà il linguaggio amoroso il linguaggio di una coppia che fa l'amore è un po' poesia dovrebbe essere ecco sì insomma fare fare una serie di gesti raggiungere lo soddisfacimento ma è un linguaggio cioè noi amandoci abbiamo un esprimiamo un linguaggio che è un linguaggio non solo che esprime piacere fisico ma anche sentimentale anche morale anche c'è l'altra persona con cui noi stiamo facendo l'amore stiamo raggiungendo con lei una vicinanza che è anche spirituale quando c'è amore viceversa ecco oggi è molto diffusa l'idea di fare appunto di fare sesso di avere dei rapporti sessuali è diffuso lo scopo amico c'è quella situazione in cui i giovani sono una festa e poi può succedere che due persone abbiano un rapporto sessuale senza che ci sia tutta una serie di barriere allora ci mettiamo insieme allora non so ti voglio una dichiarazione niente semplicemente si passa si passa all'atto non è la mia una valutazione moralistica ma se uno dei due prova qualcosa se nessuno dei due prova qualcosa oltre alla simpatia all'amicizia va tutto bene ma se uno dei due trova qualcosa cioè se si sta innamorando beh lui vivrà quel momento come un momento molto importante molto particolare un momento anche di estrema gioia di raggiungimento dell'altro ma in realtà no perché per l'altro è un momento momento di piacere ma ma è un oggetto di piacere ma ma non va di più insomma non e quindi ecco c'è questo problema perché diventa un problema nel momento in cui due persone quando una persona cerca l'amore vorrebbe si amora allora lì diventa un problema perché ti trovi a dover spiegare cose che solo la mia la mia la tua generazione non si dovevano spiegare perché si diceva paolo caterina stanno insieme dico paolo maria e invece quegli altri no altrimenti c'erano i gruppi in realtà è nato è nata nella nostra generazione eravamo giovani noi questa spaccatura tra sessi amori però è anche vero che perdurava il vecchio modello c'è una cosa strana è arrivato oggi molto più nel nei rapporti tra i giovani questa spaccatura tra sessi amore di quanto non abbia subito impattato 30 40 anni fa perché si continuava a pensare che l'innamoramento avesse un valore oggi meno c'è uno ci capita dentro magari si innamora e allora allora e allora si trova un po da sola a scoprire che questo che la coppia c'è che la coppia si può formare perché la forma ma non c'è tutto un mondo che ti spinge in quella direzione non ci sono storie racconti anzi romanzi i romanzi che hanno contrassegnato quest'epoca penso grandi scritti io penso sempre grandi scrittori perché leggendo i grandi scrittori noi non solo leggiamo delle belle storie ma traiamo informazioni sia sull'epoca sia sui comportamenti generali di quell'epoca e di quella generazione uno di questi autori in cui noi vediamo la spaccatura tra sesso amore filip rot filip rot è un grandissimo scrittore e se qualcuno volesse leggere un bel libro di filip rot per capire questa questa spaccatura tra sesso amore può leggere l'animale morente c'è un bell'articolo tra l'altro nel magazine dedicato a una gli articoli del magazine sono brevi io lo dico alle persone perché noi facciamo delle focalizzazioni ma cerchiamo di inocchiare un problema l'animale morente è la storia di un professore universitario negli anni 70 80 siamo nel pieno della rivoluzione sessuale quindi lui divorzia è un professore universitario quindi insomma sappiamo quanto poi quanto sex appeal no ci sia legato una figura educativa che ha conoscenze che vicino sempre i giovani quindi lui ha tante studentesse insomma che che si innamorano di lui e decide di vivere così di vivere delle relazioni per lo più con delle studentesse non legarsi più non innamorarsi più e infatti vive così non infatti l'autore dice tiene l'amore a distanza estetica no quindi le ragazze sono molto belle lui ha dei bellissimi rapporti non tocca mai l'interiorità non va mai in crisi finché non conosce consuelo consuelo è una bella ragazza con un seno bellissimo e a passano dei periodi stupendi poi la ragazza si laurea lui invita alla festa lui non va alla festa di laurea la ragazza a quel punto se ne ha male capisce che non avrà mai il suo amore quindi se ne va lo lascia cosa non prevista il professore entra in crisi e per la prima volta si trova diventa depresso diventa depresso una persona che perde l'amore e quindi passa anni e anni in realtà isolato senza più avere così la leggerezza di un tempo e così tanti rapporti fugaci belli no finché a un certo punto dopo alcuni anni la ragazza gli scrive e gli chiede si può fotografare il suo seno insomma chiede di incontrarlo si incontra e dice e lei gli rivela di essere malata guarda la pelle d'oca raccontare questo romanzo perché è molto vedi che tocca il cuore insomma lei ha un tumore al seno allora siccome dovrà essere operata gli chiede di fotografare ancora una volta no lui che l'ha conosciuto il suo seno prima prima che sia modificato certo e lui a quel punto a quel punto va da questa ragazza cioè lui a quel punto ha perso in tutti questi anni di dolore che ha vissuto si è reso conto che lui di questa ragazza era veramente innamorato e quindi cosa fa fa tutto quello che non avrebbe fatto alcuni anni prima si lascia coinvolgere va da lei non solo l'aiuta la fotografa ma in realtà l'accompagna in clinica il libro finisce così con lui che che la che l'accompagna e decide di di starla in fianco in un momento molto difficile perché l'amore non c'è solo nei sette anni non c'è anche nei sette anni brutti cioè quella quella vecchia formula che noi abbiamo tutti un po' odiato perché appunto ci viene dalla religione no di essere vicini nella buona e nella cattiva sorte però esprime anche una verità dell'anima cioè se tu ami qualcuno e non lo lasci solo non puoi lasciarlo solo quando è nella cattiva sorte certo bene nel male perché è un legame cioè il legame forte è un legame forte non puoi non puoi deciderlo così se non recidendo una parte di te come era successo a questo professore protagonista dell'animale morente che poi un po la con la cosa della della coppia no cioè la vecchia coppia sembra quasi un discorso un po obsoleto adesso no e sì però come vedi in questo libro lui non sapeva di essersi innamorato perché è anche importante questo in alcune epoche prevale un'ideologia per cui uno magari contro una persona subito pensa essersi innamorato e sarà la persona della sua vita la vuole sposare poi e poi quanti matrimoni sono stati fatti così e poi due persone non avevano quasi niente da dirsi viceversa questo romanzo ci mostra l'altra faccia della medaglia cioè lui si era innamorato di consuelo non delle ragazze precedenti ma di questa ragazza si era innamorato solamente che non si era reso conto che aveva bisogno di lei che era innamorato di lei e quindi ecco questa è una è una lezione importante perché dobbiamo cercare di capire cosa proviamo dentro di noi profondamente per una per una persona perché è la base del legame certo all'inizio quando dopo aver letto la lettera che mai detto devi farmi una domanda era la questione dell'età lui 14 anni prima di lei io poi ho detto ci sono delle ragazze che magari si innamorano di persone di uomini di 15 anni 20 anni 18 anni in più il detto l'amore non ha età è vero qui entriamo in un tema guarda da un lato ti rispondo sì l'amore non ha età ci sono amori che si sono di persone che hanno anche 20 30 anni di differenza nel passato era assolutamente comune non so se poi potessimo dire amore comunque che si facessero coppie tra un uomo anziano e una donna più giovane questo era tipico del fatto che il potere era un potere maschile non una società patriarcale quindi anche l'uomo di una certa età o che rimaneva vedo doveva mandare avanti la famiglia o voleva altri figli era un po' obbligato insomma obbligato una brutta parola questa comunque era tipico ecco oggi noi assistiamo a coppie anche io conosco a mia volta veramente ho delle amiche che hanno dei compagni molto più giovani di loro è una cosa che un tempo questa sarebbe suonata in modo sarebbe suonata fuori posto diciamo così finché finché lui è più vecchio in qualche modo ce la si cava perché in fondo la donna non vede la bellezza non guarda la bellezza ma le virtù maschile ma anche e soprattutto di altro tipo invece nella donna si cercherebbe solo la bellezza ma in realtà l'amore ha poco a che fare con questo ti dirò invece che secondo me c'è in questo periodo una semmai non ci sono pregiudizi una volta ce n'erano tantissimi no moglie vuoi di paesi tuoi ora noi pensiamo che usciamo dall'epoca della globalizzazione dove la coppia di una italiana con un spagnolo con un cileno con un eschimeso non si pensa minimamente che poi emergeranno delle differenze culturali che poi insomma le differenze culturali emergono anche se tu sposi una persona cresciuta nel quartiere in fianco perché la sua famiglia insomma lo sappiamo tutti siamo insieme facciamo una coppia che emergono le differenze di famiglia no lo vediamo nei figli quello lì ha un mio figlio ha un difetto allora diventa tuo figlio perché il difetto semmai oggi pregiudite sulle differenze di età cioè oggi si cerca di vedere che la coppia deve essere molto costruita di persone quasi coetane ma questo è anche l'esito di una società che si è appiattita sull'età perché se ci pensi io mi ricordo che ho visto qualche tempo fa un vecchio film si intitolava la caccia e tutti andavano insieme in questo paesino americano a fare una una gita c'erano le nonne i nonni gli adulti i bambini c'erano tutti tutto il paese andava a fare questa festa e quindi c'erano tutta una serie di dinamiche che avvenivano ma c'era una società con tutte le età rappresentate invece noi abbiamo gli anziani spesso vengono ricoverati o abitano soli o vengono ricoverati i genitori quando i ragazzi sono adulti vivono per conto loro e i giovani stanno con i loro coetane cioè la nostra società ha perso ha perso questa forza questa direi questa profondità che viene data dal contatto con chi è venuto prima di te con chi è arrivato cioè c'era un passarsi di insegnamento anche se tu non volevi qualche cosa imparavi spesso ti rivolgi solo alle persone della tua età che sanno quello che sei tu poi oggi ti prende quasi tutto dei social e quindi purtroppo quello che si sa mi sembra che sia sempre meno ecco sì sì è vero è vero senti cristina anche quest'oggi abbiamo fatto circa 40 minuti e quindi diciamo che possiamo andare anche a chiudere il nostro appuntamento poi ci vedremo settimana prossima però io ho una curiosità ma tu quanti libri leggi all'anno guarda non ti so dare non ti so dare una risposta ho avuto periodi in cui ho letto tantissimo periodi in cui non ce la faccio a leggere tanto quindi sai non ti so dire non mi piace perché poi sai c'è un libro che mi piace molto allora mi rimane impresso ti posso dire che cerco in tanti libri ok e posso dirti anche che spesso e volentieri trovo che la letteratura classica i grandi autori non sono grandi autori a caso cioè vale la pena di rileggere ancora una volta madame bovary piuttosto che qualche romanzo che così ha uno spessore ma non voglio dire questo perché poi ci sono grandi scrittori filbrotta è uno di questi insomma quindi però ecco il piacere della lettura sai cosa c'è nei libri c'è un fatto come ho detto un'altra volta che non possono essere cambiati così come la nostra conversazione rimane così non può essere cambiata però la cosa bella del libro è che tu leggi ma magari tu immagini un certo ambiente o paesaggio io leggo lo stesso libro e mi immagino magari un altro paesaggio un'altra atmosfera no? esatto perché la fantasia non è solo nella televisione ma è anche nella nostra testa infatti la lettura ci consente di costruirci la nostra le nostre immagini io direi che sì ci salutiamo se no andiamo avanti due ore io e te va bene grazie Cristina allora io ti ringrazio salutiamo i nostri amici che ci seguono sempre e vi ricordo che Cristina è anche vice direttore della rivista online Alberoni Magazine la trovate sul sito internet se scrivete su google Alberoni Magazine viene fuori poi potete mandare i vostri commenti direttamente a Cristina o al magazine e riceverete anche la risposta giusto? se avete delle domande, se avete dei dubbi, delle richieste o non siete d'accordo su qualcosa anche quello ok noi ci vediamo la settimana prossima ci vediamo la settimana prossima va bene ciao 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 ciao